Eseguite dalla squadra mobile due misure cautelari in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura della Repubblica. Nei confronti di uno dei due soggetti sono stati contestati tre furti di auto, la ricettazione di un veicolo e più cessioni di sostanze stupefacenti. All'altro è stato contestato uno dei furti di auto consumato a Caltanissetta. Dopo alcuni furti di auto in centro storico, infatti, la squadra mobile alla fine del 2021 aveva intensificato l'attività investigativa e così le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno permesso di individuare i sospettati, entrambi i residenti in provincia di Agrigento. Uno dei due in un'occasione sarebbe stato trovato in possesso di alcune centraline elettroniche idonee per la manomissione del sistema di accensione dei veicoli e l'altro invece avrebbe ceduto sostanze stupefacenti ed assuntori nisseni. Nella proprietà di uno dei due sarebbe stata trovata anche un'auto rubata e quindi l'uomo, denunciato per il reato di ricettazione e il veicolo restituito al proprietario. Il giudice per le indagini preliminari esaminati gli indizi raccolti dalla squadra mobile e rassegnati dal pubblico ministero titolare delle indagini ha disposto che uno dei due uomini fosse condotto in carcere mentre per l'altro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora. I poliziotti della squadra mobile dunque sono andati sino a Canicattì per dare esecuzione al provvedimento del giudice ed individuare i due uomini. Uno dei due è stato denunciato anche per la ricettazione di un veicolo poiché avendo l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per fatti precedenti si sarebbe recato in commissariato a bordo di un'auto risultata rubata.